buongiorno a tutti oggi parleremo a domanda risponde del contratto integrativo della mobilità 2022 2025 probabilmente già da domani 27 gennaio questo ipotesi di accordo sarà ufficializzata vediamo un po le novità che riguardano questo accordo e rispondiamo ad alcune domande che ci sono state poste in questi giorni sono una docente che al momento non ha vincoli per la mobilità 2022 2023 se dovessi fare domanda di trasferimento per un comune x resterei vincolata per un triennio allora precisiamo che l'ipotesi del ccni per la mobilità 2022 2025 non è stata ancora firmata forse lo sarà appunto domani 27 gennaio 2022 quindi per adesso abbiamo solo una bozza di accordo suscettibile tra l'altro di modifiche stando alla bozza attualmente al vaglio dei sindacati chi produce domanda di mobilità in caso venga soddisfatto in una qualsiasi preferenza anche quelle sistetiche come il comune il distretto la provincia resterà bloccato per i tre anni successivi domanda numero due sono una neo assunte ruolo potrò fare domanda di mobilità per il 2022 2023 per avere una sede definitiva sì anche i docenti nei assunti a partire da quelli entrati in ruolo dall 1 settembre 2020 potranno fare domanda di mobilità e se soddisfatti resteranno vincolati nella sede ottenuta tramite trasferimento questa norma è stata scritta nella bozza del ccni mobilità 2022 2025 presentata ai sindacati e che potrebbe essere appunto firmata già domani domanda numero 3 quali saranno i tempi per fare l'istanza di mobilità 2022 2023 e poi avere la pubblicazione degli esiti se il 27 gennaio sarà firmato appunto pubblicato il ccni mobilità 2022 2025 entro fine gennaio massimo e o i primi di febbraio uscirà l'ordinanza ministeriale 2022 2023 che sarebbe già pronta però va chiaramente modificata nelle novità dell'ultimo momento le istanze saranno presentate dalla metà di febbraio fino al massimo la prima settimana di marzo e dentro la prima decade di maggio anche i docenti in soprannumero potranno presentare l'istanza di mobilità dunque tra fine maggio e i primi di giugno stiamo parlando di periodi massimi tutti gli esiti della mobilità 2023 e 2022 2023 verranno pubblicati speriamo di essere stati utili ai nostri spettatori telespettatori per queste risposte alle domande che ci avete posto vi aggiorneremo continueremo ad aggiornarvi su mobilità nei prossimi giorni dunque seguiteci nei nostri canali social perché faremo anche dirette riguardante la mobilità e nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it arrivederci a tutti grazie 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 a tutti